giorni delle tre streghe che si verificano quattro volte l'anno quattro volte l'anno perché sono coincidenti con il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre quindi parliamo del terzo venerdì di marzo del terzo venerdì di giugno del terzo venerdì di settembre e infine ovviamente del terzo venerdì di dicembre cosa sono esattamente allora abbiamo capito che si verificano quattro volte l'anno abbiamo capito che coincidono quindi con il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre e cosa succede succede semplicemente che c'è la scadenza di molti derivati del mercato statunitense quali sono questi derivati sono futures e opzioni e perché si chiama giorno delle tre streghe si chiama giorno delle tre streghe perché coinvolge tre mercati tre mercati che sono quello dei futures sull'indice azionari e quelli delle opzioni sia sugli indici azionari sia sulle singole azioni in realtà se volessimo essere proprio precisi al 100 per cento i mercati sarebbero quattro ma si prendono in considerazione prevalentemente solo tre perché all'interno del settore ci si è sempre concentrati maggiormente su questi tre ma in realtà si potrebbe parlare anche del giorno delle quattro streghe che sarebbe addirittura più corretto perché prenderebbe in considerazione anche il fatto che scadono i futures sulle singole azioni quindi capito tutto questo abbiamo capito quindi quando sono abbiamo capito che cosa sono abbiamo capito quindi sostanzialmente come si possono verificare questi questi fenomeni e va bene però qual è il motivo per cui tutti i trader di tutto il mondo sono particolarmente attenti a queste giornate allora premettendo il fatto che noi stiamo parlando di queste giornate in relazione alle borse americane dobbiamo tenere presente che in realtà ci sono giornate analoghe anche nelle altre borse mondiali ci sono anche nelle altre borse mondiali infatti ma con caratteristiche diverse e ovviamente però quella presa più diciamo in considerazione è quella americana ma sono queste giornate americane perché ovviamente gli Stati Uniti hanno un certo peso dal punto di vista finanziario e quindi in termini di volatilità in termini di liquidità eccetera eccetera hanno sicuramente un grande impatto tuttavia non è una legge scritta nel senso che il giorno delle tre streghe può anche verificarsi una volatilità pseudo normale o addirittura normale non è detto che il giorno delle tre streghe vi sia una volatilità immensa è possibile ma non è detto tendenzialmente si può verificare questa situazione e i trader gli operatori in generale sono particolarmente attenti quindi durante queste giornate a queste eventualità ma perché quindi si verificano tutte queste dinamiche appunto perché scadono tutti questi derivati scadendo i derivati chi possiede questi derivati quindi chi ha i futures chi ha le opzioni avrà la possibilità in sostanza di intervenire su queste operazioni quindi per esempio chi ha le opzioni scoprirà se ha avuto un profitto se ha avuto una perdita eccetera eccetera e qual è la conseguenza la conseguenza è anche che in relazione a queste giornate antecedentemente a queste giornate o il giorno stesso questi operatori soprattutto se dotati di una grande liquidità ma non necessariamente anche se tendenzialmente è così cosa faranno potranno andare ad operare sul sottostante perché operando sul sottostante possono comunque influenzare di fatto l'andamento del derivato perché come sappiamo ovviamente il derivato deriva il proprio valore da un sottostante che può essere di natura reale o di natura finanziaria quindi relativo per esempio una materia prima come può essere il petrolio per esempio oppure relativo un'azione quindi derivare il proprio valore dall'andamento di una azione o di un indice azionario eccetera 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 quindi cosa succede succede che questi operatori vanno a muovere le proprie piedine in sostanza sui mercati e quindi si crea ovviamente una certa confusione però qual è il fattore diciamo fondamentalmente da prendere in considerazione è il fatto che queste operazioni che muovono magari anche molto la volatilità in una determinata giornata che è quella appunto il giorno delle tre streghe o comunque i giorni antecedenti al giorno delle tre streghe perché può anche verificarsi che la volatilità inizia ad aumentare prima del giorno stesso ecco cosa succede succede che queste operazioni sono per avere diciamo diciamo sono affini speculativi nell'immediato non sono giustificati questi movimenti da diciamo ragioni fondamentali quindi in realtà i trader e gli operatori che devono stare particolarmente attenti a queste dinamiche sono quelli che operano nel brevissimo termine quindi per esempio nell'intraday perché gli operatori che operano con operazioni a lungo termine non saranno ovviamente influenzati da queste dinamiche perché perché successivamente al giorno delle tre streghe tutto tornerà a ciò che i fondamentali giustificano quindi la volatilità tornerà normale nel breve termine nel senso a breve cioè quindi poco tempo dopo il giorno delle tre streghe la volatilità tornerà normale e quindi si tornerà a seguire la tendenza di fondo la struttura di fondo eccetera 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 quindi la difficoltà relativa al giorno delle tre streghe la paura che si ha del giorno delle tre streghe tutta diciamo l'ansia che molti operatori finanziari hanno in realtà è giustificabile solo ed esclusivamente se si opera nel breve termine altrimenti no perché è ovvio che nel senso una volta che si sa che cos'è come funziona eccetera eccetera e soprattutto si capisce che tendenzialmente questi movimenti non sono giustificati da dei fondamentali è ovvio che la preoccupazione per un operatore di lungo periodo non ha senso che esiste anche se in realtà nell'ambito della finanza la preoccupazione non dovrebbe mai esserci perché se una persona dovrebbe pianificare ogni sua operazione e anche nel caso in cui un'operazione dovesse andare male dovrebbe avere già digerito la cosa non dovrebbe avere neanche ansia neanche in momenti di volatilità particolarmente elevata però comunque sia è ovvio come un operatore di lungo termine non debba preoccuparsi di ciò e dove voglio arrivare con questo voglio arrivare al fatto che bisogna avere diciamo ben chiara la big picture quindi non avere diciamo il focus sul singolo giorno che ha una volatilità strana e quindi ci spaventa e quindi chiudiamo un'operazione ma neanche su due giorni per esempio nel senso noi dobbiamo avere una diciamo figura di quello che è il settimanale di quello che è il mensile quindi di quello che è la big picture di quello che è la struttura di fondo il trend di fondo quelli sono i punti importanti di fondo eccetera eccetera e essere consapevoli del fatto che esistono giornate come queste in cui ci possono essere dei movimenti particolarmente strani da parte sia della direzione del prezzo sia dal punto di vista comunque della volatilità ma che in realtà non ci deve preoccupare perché alla fine il trend di fondo tornerà a farsi valere con questo io direi che è tutto io vi ringrazio molto per aver guardato questo video spero che l'abbiate trovato interessante e soprattutto utile io ovviamente come sempre sono disponibile a rispondere a eventuali dubbi nei commenti o comunque sia a parlare magari di eventuali opinioni eventuali diciamo considerazioni che potreste avere in ogni caso vi ringrazio nuovamente e chiederei di lasciare un like se il video vi è piaciuto di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi auguro un buon proseguimento quindi grazie ancora ciao a tutti